Buonasera a tutti, mi chiamo Stefano Caselli, sono giornalista del Fatto Quotidiano, accanto a me Paola Bragantini, segretario provinciale del PD di Torino, il tesoriere del partito Antonio Misiani e il professor Dogliani. Io innanzitutto ringrazio il PD per avermi invitato perché mi fa piacere, perché noi del Fatto Quotidiano non ci invita mai nessuno alle feste, non lo so, quindi sono molto contento di questa opportunità. Mi è stato chiesto qualche settimana fa di coordinare, moderare un incontro, un dibattito su il finanziamento pubblico ai partiti, cosa che faremo questa sera. Io ho trovato abbastanza divertente il fatto che la prima sera che sono venuto qui alla festa, c'era il segretario Bersani, ho preso il programma della festa e il dibattito che mi era stato chiesto di moderare, vedo che aveva questo titolo, perché lo Stato deve finanziare la politica. Adesso vedo che oggi su internet c'è stato messo almeno un punto interrogativo. E allora mi è fatto venire in mente una scena di un film di Bertolucci, Berlinguer ti voglio bene, dove dopo la tombola si alza, insomma il cerimoniale fa ora basta con la tombola, si passa al culturale e presenta due fanciulle che vanno sul palco e dice, si parla, pole l'uomo esse uguale alla donna? No, sapre il dibattito. E così mi è venuta in mente questa cosa. Ecco, ora a scanso di equivoci e fuori di battuta è ovvio che è assolutamente necessario per la vita politica di un paese democratico che esistono i partiti e che i partiti abbiano la possibilità economica di funzionare, di lavorare bene ed è assolutamente vero, come si è anche ascoltato su questo palco, che il finanziamento deve essere soprattutto pubblico, proprio perché se la politica si deve avere tra i suoi obiettivi quello di governare i processi economici è chiaro che non può essere del tutto dipendente da quei processi economici che deve governare, però è altrettanto vero che negli ultimi 18 anni, soprattutto in questo paese, le cose ovviamente non vanno, siamo di fronte delle patologie, lasciando stare i casi dei Belsito, dei Lusi, eccetera. Se uno va a vedere i numeri vede che negli ultimi 18 anni i partiti politici in Italia hanno incassato come rimborsi elettorali, non come finanziamento pubblico, che poi in realtà è la stessa cosa, 2,3 miliardi di euro, che tra l'altro sono aumentati esponenzialmente, le elezioni del 1994 e del 1996 erano costate ai partiti in termini di rimborso più o meno 50 milioni di euro, arriviamo al 2001, al 2006, al 2008 dove passiamo da 195, 436, 453 milioni, siamo di fronte a delle cifre oggettivamente discutibili, io credo. È anche vero che all'inizio di luglio c'è stato un decreto legislativo che ha sostanzialmente dimezzato i rimborsi spettanti ai partiti politici per l'anno 2011, quindi da 183 milioni che dovevano essere, sono soltanto più, tra virgolette, soltanto 91, però rimangono ancora delle grosse criticità su tutto il fatto che i rimborsi ai partiti vengono elargiti indipendentemente dalle spese che vengono, qui correggetemi se sbaglio, che vengono rendicontate, per cui c'è un forfè sulla base degli iscritti alle liste elettorali e per ciascun elettore iscritto c'è un tot, mi pare 4-5 euro, che vengono poi, no, qui sbaglio, fai no, quindi quello che sbaglio, infatti, comunque io la faccio breve perché ho già parlato troppo, per cui posto che esiste una concreta, reale e giusta necessità di finanziamento pubblico della politica, è anche credo altrettanto vero che siamo arrivati a una patologia tale dove probabilmente c'è bisogno di fare molto di più rispetto a quanto è stato fatto fino adesso e quindi io chiedo al tesoriere del Partito Democratico, Antonio Misani, innanzitutto di correggere le sciocchezze che eventualmente ho detto e poi di rispondere alla mia domanda, cioè bisogna fare qualcosa, io credo, di diverso da quello che è stato fatto fino ad ora. Grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito e per la possibilità di interloquire con voi su questo tema che ha dominato nel male più che nel bene il dibattito pubblico degli ultimi mesi, ma io credo che sia necessario partire dalle patologie, dai limiti, dagli errori, il livello di spesa effettiva dei partiti per le campagne elettorali piuttosto che per l'attività politica corrente raggiungendo vette sicuramente prive di riferimento rispetto agli altri paesi europei. Tra il 2008 e il 2010 in particolare noi abbiamo avuto la sovrapposizione dei rimborsi elettorali delle politiche del 2006 con quelli delle politiche del 2008 e noi in ciascuno di questi tre anni abbiamo avuto stanziamenti destinati ai partiti di 290 milioni di euro all'anno per effetto della norma che garantiva la prosecuzione dei rimborsi anche in caso di scioglimento anticipato dalla legislatura. Primo limite quindi l'ammontare di risorse fuori linea rispetto alle altre democrazie. Secondo elemento di patologia era che questi soldi andavano a tutte le forze politiche a prescindere dal livello di democrazia interna, dalla destinazione effettiva di queste risorse, dal fatto che fossero partiti esistenti o partiti in via di scioglimento. L'unico elemento richiesto per accedere ai rimborsi elettorali era un livello minimo di consenso elettorale o l'elezione di un rappresentante nelle competizioni europee e regionali. Il terzo elemento di criticità era che l'uso di queste risorse era soggetto a controlli sostanzialmente formali e non sostanziali. Questi elementi di criticità, tanti soldi, dati sostanzialmente a tutti e con controlli molto deboli hanno aperto un'autostrada agli episodi e allo scandalo lusi prima e a quello bel sito poi che hanno segnato tragicamente il rapporto degli italiani con i partiti della politica in questi mesi. Ora la riforma che è stata approvata il 4 luglio del 2012, la legge 96 del 2012 è intervenuta su ciascuno di questi elementi. È intervenuta sull'ammontare quantitativo delle risorse destinati ai partiti, ecco va ricordato che i rimborsi elettorali erano già stati tagliati negli anni più recenti, c'era stato un primo taglio di 20 milioni fatto da prodigola finanziaria del 2008, due tagli del 10% ciascuno fatti da Tremonti nel 2010 e nel 2011, quindi era già in corso una riduzione del 30% di queste risorse. La legge del 2012 è intervenuta ulteriormente arrivando a dimezzare sin dall'anno in corso l'ammontare dello stanziamento destinato ai partiti che nel 2012 doveva essere di 182 milioni ed è passato come è noto a 91 milioni e 91 milioni rimarranno anche negli anni a venire. La legge non si è limitata a fare questo taglio che porta l'ammontare di fondi pubblici destinati ai partiti ad un livello inferiore a quello degli altri grandi paesi europei, la legge ha anche cambiato il modo in cui queste risorse vengono attribuite. C'è innanzitutto l'esplicita destinazione all'attività politica di questi soldi dovranno essere destinati, finalizzati esclusivamente all'attività politica e questo vuol dire che si chiude per sempre con le cose strane al di là di quelle illegali a cui abbiamo dovuto assistere in questi anni, i partiti che facevano investimenti in Tanzania, Cipro oppure che compravano case per poi affittarle, tutto questo finisce, i soldi pubblici vanno per quella che è la funzione costituzionalmente riconosciuta ai partiti, cioè quella di organizzare la partecipazione politica dei cittadini, selezionare la classe dirigente, partecipare alle competizioni elettorali. Una parte di queste risorse continua ad andare in ragione del consenso elettorale su base forfettaria, come del resto accade in tutte le altre democrazie europee perché in tutti i paesi in cui è previsto un finanziamento pubblico questo finanziamento viene attribuito con criteri forfettari sulla base degli eletti piuttosto che del consenso, una quota importante però di questi 91 milioni, il 30% di questi 91 milioni sarà attribuito da ora in poi in ragione della capacità di ciascun partito di autofinanziarsi. L'autofinanziamento diventa importante di per sé in un modello in cui il finanziamento pubblico viene drasticamente ridotto rispetto a quanto era prima. Diventa ancora più importante perché anche un pezzo del nuovo contributo pubblico sarà attribuito in ragione, in proporzione a quanti partiti raccolgono sotto forma di tesseramento, erogazioni liberali e tutte le varie forme che possono essere messe in campo per raccogliere in modo trasparente e legittimo soldi dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche. Cioè la legge premia chi sul territorio c'è, chi fa tessere, chi ha la capacità di raccogliere erogazioni liberali, chi fa politica e quindi anche in ragione della propria attività politica è in grado di convincere i cittadini e le persone giuridiche a sostenere il partito non solo con il voto ma anche con contribuzioni economiche. Il modello che è in vigore in Germania, in Germania è in vigore un sistema di finanziamento pubblico che è fatto in parte di contribuzione diretta e in parte di questo tipo di contributo, un contributo proporzionale all'autofinanziamento di ciascun partito, anche questo introduce un elemento di virtuosità nel sistema. Perché è chiaro che i partiti che si presentano alle elezioni e poi chiudono bottega e non esistono sul territorio non avranno quel pezzo del finanziamento pubblico, perché naturalmente non saranno in grado di dimostrare, di certificare che fanno tessere, raccolgono fondi e quant'altro. La legge interviene su questi aspetti e poi interviene anche sui temi della trasparenza, dei controlli e delle sanzioni. I bilanci dei partiti dovranno essere obbligatoriamente certificati da società di revisione indipendente, il PD lo fa già dalla fondazione dal 2008, la PricewaterhouseCoopers che è la più grande società di revisione al mondo, viene nei nostri uffici, controlla le fatture, i debiti, i crediti, ci chiede conto, ci chiede la documentazione, lo facevamo solo noi, adesso diventa obbligatorio per tutti e credo che ne vedremo delle belle quando si apriranno gli armadi di alcune forze politiche. Si rafforza anche il controllo esterno, quindi non c'è solo la certificazione, ma c'è anche un nuovo organismo di controllo che potrà fare un controllo sostanziale dei bilanci dei partiti, quindi non solo vedere se le forme sono rispettate, ma anche andare a chiedere conto ai tesorieri dei numeri che iscrivono nei bilanci e questo compito sarà fatto da una nuova commissione completamente sganciata dai partiti e dalla politica, perché i cinque membri saranno cinque magistrati nominati dal Presidente della Corte dei Conti, dal Presidente della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, quindi una commissione indipendente che farà un ulteriore controllo sui bilanci dei partiti, si abbassa da 50.000 a 5.000 euro la soglia oltre la quale le donazioni diventano pubbliche e quindi deve essere reso noto nome e cognome di chi dà i soldi ai partiti, si interviene sul regime fiscale delle erogazioni liberali riducendo di molto lo squilibrio oggettivamente inaccettabile tra il beneficio fiscale di cui godevano quelli che donavano soldi ai partiti rispetto a chi dona soldi alle onlus, al terzo settore, alle associazioni di volontariato e questo squilibrio si riduce notevolmente. Ultima cosa, però non ultima in ordine di importanza, le risorse che si risparmiano con questo intervento vanno ai terremotati nel 2012-2013 e negli anni successivi quando entra regime il nuovo sistema di detrazione fiscale andranno a finanziare sostanzialmente le maggiori detrazioni fiscali per le onlus perché si passa dal 19 al 26% di detrazione e questo naturalmente ha un costo per quanto riguarda in particolare le onlus che viene finanziato con i minori rimborsi elettorali che verranno dati ai partiti. Allora è chiaro che è un passo importante, necessario ma non sufficiente, bisogna fare altre cose, la riforma elettorale, intervenire su altri ambiti della vita politica che in questi anni sono stati oggetto di critiche, di polemiche che hanno indebolito il rapporto dei cittadini con i partiti. Però questa legge è una riforma vera, è una riforma che interviene in modo serio, incisivo, sui nodi principali che avevano caratterizzato negativamente il sistema di finanziamento dei partiti italiani, salvaguardando però un principio fondamentale. In Italia deve rimanere un sistema misto di finanziamento dei partiti, con l'autofinanziamento che avrà un ruolo sempre più importante, ma con una componente pubblica, ridotta, controllabile, verificabile, che serve per garantire parità di condizioni. Guardate, chi vuole la totale cancellazione di qualunque forma di finanziamento pubblico ci porta in America, dove i partiti sono privatizzati, la politica è completamente privatizzata e alla fine vince le elezioni chi riesce a raccogliere più soldi, ma poi chi vince le elezioni in questo modo rimane schiavo di chi questi soldi te li ha dati. Questa è l'esperienza di tante amministrazioni americane, vi cito solo un elemento, Mitt Romney, il candidato dei repubblicani, che sta raccogliendo più soldi di Obama in questa campagna elettorale, ha tra i primi cinque finanziatori cinque grandi banche, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Credit Suisse e Morgan Stanley. Wall Street sta finanziando la campagna del candidato repubblicano e sta anche finanziando peraltro la campagna di Obama perché è chiaro che naturalmente si premuniscono nel caso in cui vincano i democratici. Una campagna di questo genere naturalmente è chiaro che condizionerà qualunque riforma della finanza americana come condizionerà l'intervento della futura amministrazione su tanti ambiti della vita civile. Un sistema politico il cui finanziamento è interamente privatizzato è un sistema in cui la politica perde qualunque libertà di azione e l'agenda politica viene dettata dai grandi finanziatori e non più dalla volontà popolare. Se noi vogliamo mantenere il modello di democrazia che abbiamo conosciuto in Italia e in Europa in questi 50 anni dobbiamo correggere i difetti, intervenire col bisturi, rimuovere il marcio che si è sviluppato in questi anni ma dobbiamo evitare di buttare via il bambino con l'acqua sporca altrimenti cadiamo dalla padella nella brace e la politica peggiora anziché rinnovarsi, ripulirsi e dimostrarsi capace di recuperare il rapporto con i cittadini. Grazie. Apprendo con piacere che i partiti che chiuderanno le saracinesche dopo le tornate elettorali e senza fare tesseramento non riceveranno più soldi perché non ci sono soltanto i rimborsi per elezioni politiche, ci sono anche quelli per elezioni regionali per esempio. Noi adesso dobbiamo dei soldi, poca roba, 50 mila euro ma glieli dobbiamo al monopartito Io amo la Lucania di Magdi Cristiano Allam che ha fatto la sua partecipazione alle elezioni regionali ne dobbiamo 500 mila a una lista pugliese che ha candidato la D'Addario insomma è tutta una corte dei conti quindi speriamo che tutto questo non accada più io sarei leggermente dubbioso sull'efficacia dei controlli perché non capisco per quale motivo non possa controllare sui bilanci dei partiti la corte dei conti forse perché i partiti sono una cosa un po' particolare un po' strana, sono dei soggetti privati che ricevono del denaro pubblico e questo perché non è mai stata affrontata realmente in Italia una regolamentazione giuridica del soggetto partito politico e a questo proposito vorrei chiedere al professor Dogliani se può spiegarci quale sarebbe la formulazione giuridica più appropriata e magari anche costituzionalmente più opportuna per fare in modo che questi fenomeni vengano governati e controllati nel migliore dei modi Intanto grazie per l'invito però vorrei iniziare con questa considerazione qui il tema che oggi dobbiamo discutere se non sbaglio è stato formulato con un punto interrogativo in fondo c'è il punto interrogativo è giusto finanziare i partiti come se questa fosse la domanda difficile cioè il discorso sta come dire scendendo su aspetti tecnici pratici però insomma non nascondiamoci questo fatto che la vera domanda è quella fatta col punto interrogativo è giusto o non è giusto finanziare i partiti politici perché questo è il problema che viene discusso cioè oggi in Italia il dibattito non verte intorno al fatto se la Corte dei Conti abbia o meno il diritto di controllare i conti dei partiti politici secondo me sì perché è pacifico che la Corte dei Conti può controllare tutti i soggetti che ricevono finanziamenti dallo Stato quindi non ci sono dobbiamo piuttosto chiederci allora come mai non si è seguita questa strada lineare se ne sono formalmente lineare come mai questa ci sono anche dei problemi sulla Corte dei Conti e per carità però la domanda è determinata da quel punto interrogativo allora a me pare che prima di discutere delle tecnicalità importantissime bisogna affrontare la domanda di petto cioè come mai oggi in Italia si revoca in dubbio il fatto che i partiti politici debbano essere finanziati dal pubblico questo è il problema allora primo il problema del finanziamento pubblico della politica è vecchio come il mondo perché a tutti è noto che nell'Atene di Pericle si finanziava la partecipazione alla vita politica insomma c'era un'organizzazione costituzionale complicata comunque i 6.000 cittadini che partecipavano al più importante organo collegiale ricevevano due oboli al giorno poi dal 425 avanti Cristo in poi la somma fu elevata a tre oboli poi ovviamente quando la democrazia fu cancellata tutto ciò venne cancellato quando il regime di Atenese torna ad essere oligarchico quindi è un problema antichissimo la teoria democratica diciamo più diffusa quella che domina nei paesi come i nostri non mette in dubbio il fatto che i partiti politici debbano godere di un finanziamento pubblico qui diciamo ci sono due idee di democrazia in competizione una delle quali estremistica la quale dice che la democrazia è semplicemente un campo di battaglia dove l'unico limite consiste nel fatto di non esercitare violenza sugli avversari però poi tutto è recito insomma e un'altra che invece dice che la democrazia è un campo di battaglia in cui i competitori cioè i cittadini devono essere tendenzialmente messi su un piano d'uguaglianza questo è il punto un piano d'uguaglianza che ovviamente non è assoluto tutti abbiamo discusso negli anni passati infinitamente di quanto la realizzazione dei diritti sociali eccetera fosse propedeutico alla democrazia però un piano d'uguaglianza dal punto di vista di poter determinare la politica nazionale il voto è uguale allora se uno ritiene che la democrazia debba essere una cosa del genere cioè che l'uguaglianza del voto debba avere un senso non debba essere una menzogna non debba essere una menzogna è ovvio che il problema diventa chi formula le opzioni politiche tra cui scegliere chi determina il campo del politicamente possibile chi si può dire scrive l'agenda insomma della della politica è ovvio che se si ha un'idea di democrazia selvaggia le opzioni politiche sul campo verranno scritte da chi è più forte se invece si ha un'idea di democrazia nella quale l'uguaglianza del voto non è una menzogna non è un trucco non è un una non è un uno specchietto per le allodole allora bisogna cercare di mettere i cittadini su un tendenziale pieno d'uguaglianza consentendo alle organizzazioni di cittadini che non detengono le risorse di potere economica eccetera eccetera di formulare proposte politiche questo è il senso del finanziamento pubblico bisogna consentire che l'offerta politica non sia monopolizzata dai poteri socialmente forti tutto qua niente di più niente di meno dopodiché c'è come dire un sottoproblema che è quello di evitare questa è la seconda motivazione del finanziamento pubblico ma che consegue alla prima evitare diciamo la corruzione politica perché si sa che se non ci fosse il finanziamento pubblico allora i soggetti socialmente dominanti non gestirebbero in prima persona l'offerta politica non monopolizzerebbero direttamente l'offerta politica ma comprerebbero le formazioni politiche esistenti quindi le due facce sono strettamente collegate la prima è più importante la seconda è una conseguenza da questo punto di vista quindi a me sembra che chiedersi se secondo la teoria democratica dominante i partiti politici debbano essere finanziati è una non domanda è ovvio è certo che deve essere che deve essere così a meno di non sposare quella visione estremistica della democrazia a cui facevo prima cenno che sta dilagando sta dilagando si sta rafforzando la sentenza della corte suprema degli stati uniti del gennaio 2010 che ha liberalizzato il finanziamento da parte delle corporations della campagna elettorale è una sentenza gravissima pericolosissima un sintomo veramente preoccupante perché il nucleo di quella sentenza la vicenda era nata intorno ad un video che criticava Hillary Clinton e la domanda giudiziale riguardava il caso di specie insomma invece la corte suprema è andata al di là delle domande degli attori e ha detto e ha affermato un punto di principio e cioè che il diritto di finanziare le campagne elettorali va trattato alla stessa stregua del diritto di libertà di manifestazione del pensiero primo emendamento della costituzione quindi così come non si deve limitare il diritto della libertà di manifestazione del pensiero non si deve limitare il diritto di finanziare le campagne elettorali perché sono la stessa cosa il pensiero e il finanziamento sono da trattare nello stesso modo allora qui abbiamo mille problemi e i mille problemi sono testimoniati dal fatto che la nostra domanda a quel punto interrogativo in fondo che prende atto come dire dello stato d'animo dei cittadini prende atto dello stato d'animo dell'opinione pubblica però prima di tutto teniamo fermi i principi poi discutiamo delle tecniche allora il principio è che il finanziamento pubblico deve essere un dato indiscutibile e va difeso ma va difeso con convinzione va difeso sapendo quel che si dice non va difeso a testa china dicendo che sì lo dimezziamo perdona ma e poi diamo i soldi ai terremotati e poi insomma sì diamo i soldi ai terremotati diamo i soldi alle omlus facciamo quel che vogliamo ovviamente in un momento di crisi economica e così come si riducono i finanziamenti alla ricerca scientifica o alla sanità si ridurranno i finanziamenti alla politica benissimo ma questo è un discorso di compatibilità economica non è un discorso di principio di principio bisogna dire che un punto cardine della democrazia è che l'offerta uso questa parola un po' brutta però insomma tanto per capire cioè la formulazione delle ipotesi politiche possibili sul futuro di un paese lo devono è un'attività alla quale devono poter concorrere tutti e non soltanto coloro che già godono dei mezzi per potersi per potersi imporre io vorrei sottolineare chiudo che in questo atteggiamento antipolitico nel quale si iscrive la polemica contro il finanziamento pubblico ma la polemica contro il finanziamento pubblico è un pezzo di un discorso più ampio di un discorso sostanzialmente che dice che la politica è inutile non è un fenomeno solo italiano è un fenomeno europeo nasce nel nord Europa poi ha dilagato quindi è una questione molto complicata e complessa e grave però c'è questo c'è questa idea che si sta diffondendo la politica è inutile della politica se ne può fare a meno la società può auto-organizzarsi i cittadini sanno quello che vogliono i cittadini sono i migliori giudici del loro interesse non c'è nessun bisogno di baracconi politici che spieghino che cosa si può fare e non si può fare ora questa idea è un'idea regressiva è un'idea primitiva anche qui non lo sto dileggiando perché è un fenomeno di dimensioni di dimensioni enormi però guardate che dietro l'idea dell'inutilità della politica ci sta come dire diciamo una visione animalesca dell'uomo animalesca non voglio qui fare il però cito come si faceva un'altra cito Aristotele la somma autorità ips ed ips allora Aristotele in un famosissimo passo della politica dice da quella famosa definizione dell'uomo come animale politico poi però dice tre righe dopo spiega cosa vuol dire animale politico perché molti lo traducono un essere sociale eccetera ma allora anche le api sono degli esseri sociali le api vivono negli alveari allora qual è la differenza tra l'uomo e le api dice Aristotele perché l'uomo è dotato della parola tre righe dopo averlo definito animale politico quindi l'uomo è un animale politico dotato della parola cosa vuol dire vuol dire che mentre le api sono degli animali da alveare l'uomo è un animale da polis da stato con questa fondamentale caratteristica che l'alveare se lo costruisce lui mentre le api l'alveare se lo trovano fatto sta scritto nel loro DNA nel loro gli uomini si costruiscono l'alveare da loro con la loro parola allora rinunciare alla politica vuol dire rinunciare a questa cosa fondamentalissima che il mondo in cui viviamo ce lo facciamo con le nostre mani o meglio con la nostra con il nostro cervello e con la nostra bocca quindi io trovo pericolosissima questa deriva ritengo che a costo di impopolarità un partito come il partito democratico la dovrebbe contrastare con forza e non limitarsi a dire facciamo il possibile chiudiamo limitiamo dimezziamo togliamo a parte il fatto che il finanziamento in Italia non era poi quella cosa così straordinaria come per televisione tutti vogliono far credere perché adesso ah ecco sì a me risulta che dopo i tagli tremonti scusate dopo i tagli tremonti la Germania aveva 5,64 euro per abitante la Spagna 2,84 la Francia 2,46 l'Italia 2,32 ora però se uno apre la televisione e sente fior di giornalisti di fior di testate raccontano una storia diversa allora l'antipolitica è diffusa molti cittadini hanno diritto di indignarsi però che abbiano diritto di indignarsi anche dicendo delle falsità alcune delle maggiori firme del giornalismo italiano è più difficile riserire è più difficile allora quando si vedono editoriali sui maggiori giornali italiani scritti da osservatori politici che sono delle grandi firme che considerano un'opzione possibile quella della fine della politica o di una politica senza partiti secondo me c'è da essere molto preoccupati il professor Dogliani ha introdotto in maniera piuttosto efficace un argomento che volevo poi affrontare adesso chiedo di intervenire a Paolo Bragantini innanzitutto perché qua parliamo di finanziamenti parliamo di soldi parliamo di partiti però abbiamo la possibilità di ascoltare il racconto del responsabile di un'articolazione territoriale di un grande partito che immagino che con i soldi abbia a che fare costantemente in maggior ragione quando si tratta di organizzare eventi di questo tipo e poi però posso anche chiederti che ripeto il professore non ha già parlato c'è una forza politica che questo non passi come una dichiarazione di simpatia nonostante quel che si pensi troppo spesso purtroppo del mio giornale che oggettivamente ha dimostrato di poter entrare nelle istituzioni che è il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo rinunciando ai rimborsi elettorali e ai finanziamenti io mi chiedo se questa è una questione con cui avremo a che fare a lungo io credo di sì ma potrei sbagliarmi nel futuro della politica italiana o se invece è una cosa che non vi preoccupa allora tu metti subito i piedi nel piatto naturalmente citando anche se non l'hai fatto citando il movimento dei grillini e io inizio dicendo che la prima cosa che contraddistingue una formazione politica degna di questo nome voglio dire di una storia e di un'identità forte come quella che riteniamo di avere noi da una formazione di questo tipo che è assolutamente degna di rispetto ma sicuramente con un po' meno di storia alle spalle è il fatto che all'interno del nostro simbolo ci sono storie importanti identità culturali importanti e non il nome di una singola persona che quindi in un modo o nell'altro è padrone di questo stesso partito e credo che nel fatto stesso che nel nostro simbolo ci sia un nome ci sia un aggettivo ci sia questo aggettivo democratico e da parte nostra ci sia anche stata la volontà forte di chiamarci partito e di non inserire il nome di nessuno sia anche questo un elemento programmatico nel voler dire che noi siamo una squadra composta da tante persone composta di strutture territoriali e nessuno di noi tutti siamo utili ma nessuno è indispensabile perché quello che ci rende più forti è il fatto di essere tanti e di essere insieme di esserci dati delle regole e di darci delle strutture all'interno del territorio non è la prima volta che vediamo una formazione politica nascere e arrivare anche ad avere dei rappresentanti negli organismi elettivi e credo che questo fenomeno non sia assolutamente da sottovalutare ma come spesso mi capita di dire al consigliere del Movimento 5 Stelle che ho l'avventura di frequentare un po' di più essendo nella circoscrizione che ho l'onore di presiedere quei cittadini che citando quanto diceva il professore prima dicono non c'è bisogno di politica perché noi facciamo da soli in realtà si contraddicono perché stanno facendo politica e nel momento stesso in cui un po' di persone si mettono insieme decidono di presentarsi alle elezioni decidono di presentare le proprie liste alle elezioni possono anche decidere di non chiamarsi partito ma di fatto un partito sono certamente prima o poi loro stessi dovranno domandarsi quali regole e quali strutture vogliono darsi e questo lo vedremo sono molto sono molto curiosa peraltro di capire come arriverà il Movimento 5 Stelle a selezionare per esempio le candidature le candidature in Parlamento perché guardate che le cose fondate soltanto su su Facebook o sui gruppi o sui blog che pure sembrano così trasparenti invece non sono affatto trasparenti o comunque sono facilmente attaccabili con meccanismi anche piuttosto semplici il nostro partito ha delle regole ha degli statuti degli organismi di garanzia un dibattito che definire trasparente è fin poco perché persino i nostri litigi sono sui giornali quotidianamente quindi il Partito Democratico davvero prende le sue decisioni anzi addirittura abbiamo direi inventato in Italia lo strumento delle primarie dove non chiediamo la tessera di partito tutti i cittadini possono venire a scegliere insieme a noi persino i nostri organismi dirigenti i nostri segretari quindi ritengo che i grillini innanzitutto il Movimento 5 Stelle innanzitutto dovrà presto porsi la domanda di quali regole di quali regole darsi perché le regole al di là di essere accusate di essere burocratizzazione in realtà sono una garanzia di reale democrazia di un movimento e di un gruppo di persone che si mettono insieme con degli obiettivi in effetti il titolo di questo dibattito non aveva il punto interrogativo ed era stato fatto anche provocatoriamente come un'affermazione poi i giornali che hanno riportato oggi il titolo del dibattito hanno aggiunto loro il punto interrogativo probabilmente altrettanto provocatoriamente non lo so noi volevamo partire proprio in questo dibattito dalla premessa che veniva ricordata anche da chi mi ha preceduta del fatto che in realtà sia un problema di garanzie democratiche questo del meccanismo del finanziamento pubblico però credo che dire finanziamento pubblico ai partiti e dire che questo è giusto sia importante sia una giusta premessa ma non basti perché effettivamente quello che abbiamo visto accadere negli anni passati è difficilmente difendibile io lo dico con amarezza perché effettivamente io la mia storia di militante inizia nel 93 ho iniziato allora non c'era il PD ero iscritta all'allora PDS mi sono iscritta con quello che si chiama lo spirito di servizio quindi sentivo il desiderio di fare politica insieme ad altre persone gratuitamente e ricordo che allora quando mi iscrissi eravamo in piena campagna elettorale mi iscrissi andai nella nella sede e lì c'erano un bel po' di persone che facevano i cosiddetti panini che per chi ha militato sono quei volantini piegati con dentro il facsimile che poi noi stessi andavamo a mettere nelle buche delle case del nostro quartiere ed era un vanto per me ogni volta quando incontravo qualcuno di qualche altro partito che andava per case a infilare i volantini nelle buche era ogni volta un vanto che costoro mi chiedessero quanti soldi mi davano e io dicevo veramente lo faccio gratuitamente perché ci credo ed era un vanto per me che il nostro partito allora e anche il PD oggi ha tantissime persone e dobbiamo sempre ricordarcelo perché è così che gratuitamente e sono anche qui ed è grazie a loro che questa festa come tante altre iniziative vanno avanti gratuitamente si impegnano per fare per fare politica e dobbiamo essere orgogliosi e consapevoli del fatto che questo è un elemento molto importante che costruisce anche l'identità di un partito il nostro è un paese che ha poca memoria sono andata a guardare la legge che istituiva il finanziamento pubblico ai partiti del 74 tra l'altro l'anno della mia nascita e ho visto che è stata una legge fatta a seguito di due scandali grossi che avevano visto implicati partiti che avevano ricevuto finanziamenti in modo non trasparente da aziende legate anche con rapporti forti con lo Stato ed ecco a seguito di questa legge si è deciso sull'onda dell'opinione pubblica che si era resa conto del rischio a cui erano sottoposti i partiti di istituire questa legge la legge piccoli ed è un paese dicevo che ha poca memoria perché è solo il 74 in cui abbiamo visto cosa può succedere è stata istituita una legge mentre oggi paradossalmente ci troviamo a discutere dell'esatto contrario e magari fra vent'anni di nuovo il contrario e questo mi ricorda un po' anche l'isteria che abbiamo sui sistemi elettorali sono almeno vent'anni che discutiamo di sistemi elettorali come se cambiando il sistema elettorale potessimo di improvviso cambiare tutto il nostro sistema politico e ogni volta troviamo i sostenitori di quel dato sistema elettorale piuttosto di quell'altro dato sistema elettorale come se grazie a quel singolo mutamento noi potessimo sconvolgere completamente il nostro quadro politico credo 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 dovremmo non andare sull'onda di questa o di quella o di quella emozione anche o scandalo ma capire che la legge sul finanziamento e la necessità che lo Stato finanzi in qualche modo la politica non sia tanto a prevenzione di eventuali atti illeciti quanto come diceva il professore prima a garanzia della possibilità di una reale pari opportunità fra i cittadini nell'accesso alla politica nella possibilità di potersi avvicinare alla politica e di essere protagonisti della vita politica non solo grazie ai propri mezzi ma grazie al fatto che esistono delle strutture delle squadre come mi piace chiamare anche il nostro partito che siano in grado di rendere un cittadino che da solo è piccolo molto più forte perché si trova insieme a tanti altri cittadini e quindi è in questo senso che noi difendiamo il finanziamento pubblico ai partiti certo io come segretario provinciale e prima ancora come segretario di una piccola sezione vi posso dire che effettivamente dovremmo forse noi stessi e tutti i partiti interrogarsi anche in futuro su come questo finanziamento più che diciamo ai partiti dovrebbe essere inteso come un finanziamento alla politica e quindi alle organizzazioni territoriali dei partiti che davvero rendono protagonisti poi alla fine i singoli cittadini che partecipano alle nostre iniziative e che possono farsi motore di un cambiamento della propria comunità invece molte volte abbiamo avuto una verticalizzazione di questi finanziamenti per cui alla fine i finanziamenti sostanzialmente sono rimasti alle strutture apicali ma non sono riuscite ad arrivare alla fine a dare fiato e sviluppo alle organizzazioni territoriali dei partiti questo lo dico e il nostro partito è l'unico che almeno ha una struttura regionale per cui il partito centrale si preoccupa di sostenere le proprie strutture regionali ma io immagino che cosa possa succedere in tutti quegli altri partiti che non hanno una struttura e dove quindi finanziamenti probabilmente non escono dalla cinta daziaria di Roma e questo io ritengo che sia un problema forte perché allora sì davvero rischi di finanziare solo la struttura burocratica dei singoli partiti le singole macchine e non invece è quello che questi partiti devono e vogliono fare se lo vogliono fare e cioè politica nei territori e coinvolgimento e organizzazione partecipazione dei singoli cittadini guardate come segretario e prima ripeto anche come segretario di una sezione posso dirvi che la politica davvero e le campagne elettorali davvero costano molto e questo è un meccanismo che si va accelerando di volta in volta i meccanismi della comunicazione sono meccanismi che vedono dover comprare spazi sui giornali dover comprare grandi tirature di volantini e l'esperienza di ciascuno di noi è quella in campagna elettorale di vedere la propria buca intasata di carte quello significa campagna elettorale significa che tutti i partiti producono comunicazione cercano di raggiungere gli elettori quello è un meccanismo obbligato altrimenti come fa il cittadino ad essere informato soltanto tramite la televisione è preoccupante ebbene tutto questo va aumentando con quella che è un altro fenomeno che va accelerandosi via più negli ultimi anni che è quello della personalizzazione sempre di più abbiamo singoli facce più che partiti che cercano la comunicazione diretta con i cittadini e questo ha anche un altro effetto ulteriore e cioè che il cosiddetto fundraising quello che adesso con eleganza chiamiamo fundraising cioè la raccolta fondi viene fatta sempre più spesso dai singoli candidati anziché dalle strutture organizzate questo succede quando andiamo alle elezioni per i sindaci per i presidenti delle province e alla fine anche per il consiglio regionale laddove abbiamo i consiglieri regionali che alla fine raccolgono fondi e i candidati presidenti che raccolgono fondi io credo ed è anche questo uno degli argomenti per cui principalmente ritengo il meccanismo delle preferenze e soprattutto della preferenza unica un meccanismo piuttosto con molte controindicazioni credo che noi dovremmo rivendicare e essere orgogliosi di quel valore sociale che hanno anche e che possono avere e che noi vogliamo che abbiano i partiti nella capacità di far sì che davvero ci si presenti attorno a delle idee e attorno a dei programmi e non solo attorno a delle singole facce che possono essere a volte belle sorridenti ma poi alla fine non essere sostenute da reali programmi e da reali idee che possono poi permeare anche l'azione successiva credo che noi dobbiamo anche stare attenti a coloro che ci dicono vabbè se tu hai un'idea politica dai soldi al tuo partito e basta quindi ciascuno paghi il suo partito e basta perché questo al di là di essere un'affermazione che può far scattare l'applauso in tutti questi talk show dove molti opinionisti purtroppo a volte anche persone che invece non dovrebbero fermarsi alla superficie ripeto si può strappare l'applauso ma questo quest'idea stessa ha dentro di sé un germe veramente pericoloso e antidemocratico laddove alla fine i più deboli sono costretti a rimanere più deboli perché un partito che voglia avere a cuore l'interesse dei più deboli avrà elettori più deboli che certo meno possono dare a questo stesso partito per poter fare i propri interessi questa è un'idea lobbistica della politica le lobby possono andare bene per il mercato e per gestire alcune situazioni relative a certi settori ma senz'altro non possiamo impostare la vita politica del nostro paese come fosse un meccanismo di lobby credo che noi dobbiamo rivendicare il fatto che noi ci chiamiamo partito ma noi non possiamo fermarci dietro a una parola sono contenta che il nostro tesoriere abbia deciso per tempo di far certificare i propri bilanci siamo l'unico partito ad averlo fatto ma credo che davvero la sticella vada tenuta sempre molto alta perché non dobbiamo sottovalutare che i cittadini sempre di più anche grazie ad alcuni movimenti questo devo dire il movimento 5 stelle ha buttato anche qualche sasso che comunque male non fa credo che la sticella debba rimanere alta l'attenzione debba rimanere alta perché nel momento stesso in cui passa il messaggio che sono tutti uguali e la democrazia a venirne meno e non solo la democrazia ma anche tutti coloro che come noi lavorano tutti i giorni con grande sacrificio anche per cercare di costruire una comunità migliore non dobbiamo permettere a nessuno di far sì che tutta la politica sia buttata nel fango perché invece noi sappiamo quante energie positive ancora oggi la politica e l'amore per la propria comunità possa suscitare e questo completamente in modo gratuito io prima sono stato giustamente ripreso dal professore per aver fatto una domanda troppo tecnica che avrebbe comportato una risposta noiosissima adesso faccio proprio il giornalista populista e mi butto per terra perché qui parliamo di finanziamento ma non parliamo mai di quantità adesso vado nei costi della politica perché non nel finanziamento non è probabilmente un discorso che si può fare per un segretario provinciale di partito però io credo che se forse i parlamentari guadagnassero la metà ho detto che faccio il populista faccio il populista infatti guadagnassero la metà che sarebbe comunque tantissimo forse determinati problemi non ci sarebbero io credo che all'origine ci sarebbe una selezione della classe dirigente molto più efficace questa è una mia idea difficilmente dimostrabile ma è una mia idea ecco io mi chiedo per quale motivo ci sia questa grossa difficoltà nel mondo politico italiano parlo dei maggiori partiti ad affrontare questo tema perché ci sono delle spinte centrifuge dell'antipolitica di cui abbiamo parlato fino ad adesso che io credo che siano molto facili da arginare e questo dovrebbe essere un tema che trovo che è molto difficile da giustificare che non venga affrontato non è vero che non viene affrontato perché ad ogni manovra dipende cosa si intende risolvere perché per esempio io credo che la selezione della classe dirigente e dei parlamentari migliora se si restituisce ai cittadini il potere di scegliere non solo i partiti ma anche le donne e gli uomini da mandare in Parlamento perché tu puoi anche pagarli un quarto di quello che prendono oggi ma se poi le liste le fanno cinque persone chiusi in una stanza in virtù dell'attuale legge elettorale queste cinque persone chiusi in una stanza sceglieranno fedelissimi cooptati o suddivisi per corrente che verranno pagati un quarto magari di quello che costavano prima ma faranno ugualmente spesso male il loro mestiere quindi per esempio dal mio punto di vista la questione di quanto devono essere pagati gli eletti la affronterei innanzitutto guardando a quello che succede negli altri paesi civili perché non è che dobbiamo inventarci cose particolari in Italia basterebbe guardare a come vanno le cose in Francia in Germania in Gran Bretagna nelle altre democrazie paragonabili alle nostre perché l'eccezione italiana e l'eccezionalità italiana spesso ha prodotto danni enormi in questo paese e poi io credo voglio essere un po' provocatorio che forse bisognerebbe anche nel caso dei parlamentari iniziare a differenziare tra chi lavora chi fa il suo dovere e io credo che queste persone debbano essere pagate perché i parlamentari hanno una grande responsabilità nei confronti dei paesi e i lazzaroni per quanto mi riguarda potrebbero essere anche pagati zero e mandati a casa alle elezioni successive il punto è che noi abbiamo un meccanismo che non funziona tutti sono uguali a prescindere dal tipo di lavoro che fanno i cittadini spesso non hanno la possibilità di valutare il lavoro dei loro eletti e tantomeno hanno la possibilità di mandare a casa gli eletti che hanno lavorato male che non hanno svolto fino in fondo con dignità e onore la loro funzione istituzionale ecco magari un ragionamento un pochettino più complesso dell'andare a dire davanti a centinaia di persone per prendere applausi diamo 2500 euro a ciascun parlamentare paghiamoli come il sindaco di Firenze io credo che questi ragionamenti sono buoni magari per strappare applausi sono un po' meno buoni per affrontare con coraggio vero quelli che sono i problemi di un paese che spesso si è dato una classe politica di basso livello perché le regole non andavano nella direzione della selezione dei migliori e poi diciamocela anche tutti diciamocela anche tutta spesso questo paese l'elettorato italiano ha anche votato forze politiche e persone che poi hanno prodotto danni a questo paese perché comunque vorrei ricordare che se abbiamo avuto tanti anni di berlusconismo di centrodestra con i danni che hanno prodotto questo paese insomma qualcuno di questi li ha votati ad ogni elezione li ha portati al governo laddove hanno governato e non li ha mandati a casa quando era meglio mandarli a casa in una democrazia la classe politica nel bene o nel male è quasi sempre specchio della società io non credo all'idea di un paese buono e di una classe politica cattiva la questione più complessa riguarda tutti noi come elettori come cittadini io credo che noi dobbiamo lavorare per regole per meccanismi che rendano i cittadini più consapevoli più interessati più coinvolti più partecipi nella vita politica e li rendano più in grado di scegliere le persone che valgono le forze politiche maggiormente credibili e all'altezza dei problemi del paese cosa che purtroppo spesso in questo paese non è avvenuta se noi andiamo in questa direzione facciamo un passo in avanti se noi ci limitiamo a lisciare il pelo dell'opinione pubblica credo che magari strappiamo qualche facile applauso ma non facciamo fare un passo in avanti il paese grazie a cosa devo rispondere alla stessa domanda ma io penso allora per quanto riguarda parto da un problema più facile la riduzione del numero dei parlamentari ma sulla riduzione del numero dei parlamentari questo problema della riduzione del numero parlamentare può essere affrontato in due modi diversi il primo modo è quello di dire meno parlamentari meno spese risparmiamo è un ragionamento un po' povero insomma cioè intanto non è vero che dare insomma sarebbero risparmi molto molto limitati e poi anche qui guardiamo agli altri paesi eccetera quindi c'è da dire che il numero complessivo dei parlamentari italiani non è stratosferico potrebbe essere limitato ma c'è un argomento a favore della riduzione secondo me sì cioè al di là dei benefici che porterebbe perché vorrei ribadire una cosa il momento è difficile la questione dell'onore della politica è una questione importantissima e viviamo in un momento difficile e dobbiamo affrontarla bene e giustamente mi diceva non dobbiamo rimanere lì con la bandierina ma dobbiamo compiere degli atti efficaci degli atti efficaci allora la riduzione del numero dei parlamentari può essere un atto efficace secondo me non è determinante però potrebbe esserlo ma in che ottica nell'ottica secondo la quale una riduzione del numero dei parlamentari potrebbe non necessariamente ma potrebbe diciamo elevare il prestigio della Camera perché la storia insegna che quando si voleva depotenziare un collegio si facevano infornate per ampliarlo quando lo si voleva invece costituzionalmente rafforzare si faceva al contrario quindi una riduzione del numero dei parlamentari secondo me va valutata da questi due punti di vista primo aumento del prestigio dell'Assemblea perché essendo più limitata i singoli secondo gli effetti sulla rappresentanza perché è ovvio che ridurre il numero dei parlamentari è come introdurre soglie di sbarramento che impediscono che rendono più difficile le lezioni di piccole formazioni per quanto riguarda le retribuzioni secondo me il problema giustamente si diceva devono essere retribuzioni socialmente accettate ma senza esagerare sul punto deve essere socialmente accettata l'idea che chi svolge quella funzione abbia quel livello retributivo ai miei insomma tanti tanti anni fa molto prima che la segretaria attuale nascesse c'erano delle regole interne per cui ai parlamentari del partito comunista veniva lasciato un salario mensile pari a quello di un operaio metalmeccanico il resto lo si lasciava al partito anche i consiglieri comunali e provinciali lasciavano tutti coloro che erano nominati in consigli d'amministrazione eccetera lasciavano una buona parte della loro della loro degli emolumenti che ricevevano ma insomma quindi come accade anche oggi una mi irritava allora il fatto che gli indipendenti di sinistra invece fossero esentati da questa regola comunque voglio dire io non francamente non esagererei su questo punto gli scrutatori certo 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 presidenti di seggio quindi è chiaro che giustamente diceva il segretario c'è la componente della militanza e la componente della militanza è preziosissima è insostituibile e ciò che fa un partito radicato è la militanza punto ci sono però dei costi che non sono superabili attraverso la militanza perché gli spazi televisivi non sono sono cari perché secondo me è molto giusto avere un giornale sarebbe molto secondo me sarebbe la salute del PD sarebbe molto migliore se ci fossero ancora dei settimanali dei settimanali che si occupano di politica economica dei settimanali che si occupano di politica internazionale io sono molto fiero di far parte di democrazia e diritto che l'unica rivista che siamo riusciti a difendere perché tutte le altre sono state sono state chiuse comunque questi costi sono a mio parere ragionevoli non vanno accettati per quanto riguarda la retribuzione della classe politica ho già detto il punto concordo è la qualità è la qualità perché se diciamo così è la qualità connessa agli stili di vita interni perché se gli stili di vita interni configurano il lavoro politico come diciamo una progressione di carriera che non è un'onesta carriera politica che è sacrosanta è giusto cominciare dalla militanza farsi le ossa nei consigli di circoscrizione comunale tutto ciò è sacrosanto il problema è diverso il problema è ritenere che la molla fondamentale dei comportamenti politici sia la carriera questo è il punto il punto che crea che crea disagio per cui la retribuzione è vista non come la giusta mercede ma è vista come l'obiettivo dell'attività politica in quanto tale qui qui casca casca l'asino insomma molte altre cose da dire non so però torno a dire il problema è quello di abitudini politiche stili di vita politici comportamenti attività concreta dibattito pubblico più che regole così con la bacchetta magica che risolvano i problemi da questo punto di vista la militanza non è soltanto come dire una risorsa indispensabile per l'esistenza del partito ma è la forma di garanzia prima è la forma di garanzia prima perché tocca ai membri del partito controllare la moralità politica dei loro dirigenti e se salta questo salta tutto perché allora si ha l'idea che l'intero partito non sia che una grande macchina volta a garantire carriere più o meno brillanti e più o meno alte la questione della retribuzione come giusta merced e non come obiettivo era il senso della selezione della classe dirigente a monte che non è l'unico elemento vuoi intervenire sì il problema è che in questi anni e anche soprattutto in questi mesi dove su facebook su internet tutti gli strumenti di comunicazione vediamo in realtà un grande dibattito su questi temi si fa anche moltissima confusione si fa una grande insalata in cui si mette dentro lo stipendio del parlamentare piuttosto che del consigliere regionale con il finanziamento pubblico e partiti insieme con il finanziamento ai giornali insieme con il privilegio fastidioso che viene citato e alla fine si fa un mescolone naturalmente il cittadino che già fa fatica a far quadrare i conti del pranzo con la cena legge queste cose e come dire io comprendo benissimo che la reazione ci sia effettivamente più che una riduzione che io ritengo che in effetti in questi anni è stata fatta ma che ci sia probabilmente anche qualcosa ancora da rosichiare ma più che questo in realtà sia la necessità quella sentita dai cittadini di fare un po' di ordine magari rispetto a una serie anche di informazioni che vengono date rispetto a privilegi che in alcuni casi non ci sono neanche per cui ormai siamo convinti che chiunque abbia un incarico politico dal consigliere di circoscrizione fino al parlamentare europeo non paghino mai niente abbiano tutto gratis e si fa un'informazione incredibile io stessa quando sono diventata presidente della circoscrizione ho litigato severamente con una mia carissima amica perché mi ha fatto gomito e mi ha detto adesso però con questi 7.000 euro al mese ho detto guarda veramente prenderò 2.000 euro al mese adesso che siamo usciti fuori dal patto di stabilità io arrivo a 1.500 euro al mese per 12 mensilità per trasparenza perché come dicevo prima i cittadini dicono casta e mettono tutti dentro e spesso anche io devo rispondere di questo a un certo punto mi sono scocciata e ho messo su facebook la mia busta paga qualcuno mi ha detto vedi ecco per carità 1.450 euro li rubi lo stesso e allora questo per dire un po' che in effetti tanto per quanto per quanto viene diminuito lo stipendio ripeto ritengo che ci sia da rosichiare anche in particolare in una categoria che tutti ce l'hanno con i parlamentari mentre invece oggi i veri privilegiati sono i consiglieri regionali e nessuno ci pensa perché poi comunque sia fare la vita fuori dalla propria famiglia per tutta la settimana vivere lontani da casa e dover sostenere comunque delle spese è comunque una scelta di vita che non tutti farebbero mentre in effetti i consiglieri regionali si trovano anche a casa propria comunque ripeto ritengo che ci sia ancora da rosichiare ma quello che voglio dirti in risposta un po' a quello che dicevi tu è che però non è questa la logica che bisogna seguire perché tanto non basterebbe mai perché ormai è passato il principio che comunque tu se vuoi fare politica la fai gratis perché l'hai scelto tu ebbene non è così perché se si vuole ricoprire un ruolo amministrativo bisogna sapere che non è un lavoro perché inizia e finisce però è anche opportuno che sia consentito a coloro che si assumono un ruolo di questo tipo di poter avere quell'emolumento che viene considerato diciamo accettabile socialmente come dicevano i miei interlocutori prima è questione anche di rispetto del ruolo sociale che noi vogliamo dare ai nostri amministratori e noi stessi dobbiamo recuperare l'alto valore che ha ancora oggi scegliere di dedicare la propria vita a quello che noi riteniamo essere il bene della propria comunità e non è una cosa che si fa con leggerezza e non è una cosa che si può fare con l'obiettivo dello stipendio perché guardate che per pochi che comunque hanno un emolumento alto ci sono migliaia di persone che in tutti i partiti mica solo nel partito democratico scusate si fanno un mazzo così perché credono in un'idea e lo fanno sacrificando i propri soldi e la propria volontà e cercando di sacrificare il tempo nei ritagli anche del proprio lavoro e ancora oggi pagando dei prezzi perché non sempre il posto di lavoro è compatibile con un impegno politico e non sempre famiglia amici colleghi riescono a capire come una scelta del genere possa essere così totalizzante e vi assicuro che alla fine totalizzante lo è una battuta vorrei fare su una cosa di cui nessuno parla mai che è il professionalismo delle liste farlocche io non so se questa cosa ci sia solo a Torino mi riprometto di chiedere anche magari a voi se avete anche occhio fuori Torino ci sono persone che campano di presentazione di liste politiche finte che o imitano il nome di un'altra lista oppure che banalmente inventano un simbolo accattivante e quindi purtroppo l'opinione pubblica che è molto troppo fragile vota queste liste ed ecco perché dico che non sono alla fine le regole che ci salveranno e salveranno il nostro paese ma sarà soltanto un processo culturale un processo di maturità della nostra opinione pubblica perché non è possibile che se io presento la lista bunga bunga riesco a prendere il 2% ma cosa hanno pensato quei cittadini che adesso non l'ha preso il 2% ma l'ho detto apposta il nome di una lista per non doverne citare nessuna ma vi assicuro che noi abbiamo consiglieri eletti imposti che hanno preso un voto di preferenza perché quei voti che ha preso quella lista sono tutti errori tutti i cittadini che sono andati là e hanno buttato via il loro voto perché hanno votato così perché hanno votato distraendosi perché non hanno prestato attenzione ecco costoro costoro rubano a tutti noi soldi e credibilità e io credo che da questo punto di vista anche i media dovrebbero forse prestare un pochino più di attenzione e probabilmente anche i cittadini con una lista che anzi una scheda elettorale che anziché essere di un metro e mezzo perché i tre quarti sono di liste farlocche magari la scheda fosse un po' più piccola forse potremmo anche avere un voto più consapevole da parte dei nostri cittadini bene abbiamo ancora credo qualche minuto se qualcuno vuole intervenire ultimamente in questi mesi è diventato molto cool parlare con un tesoriere quindi potremmo essere c'è anche il balletto grazie io non volevo intervenire ma vuoi venire vieni solo non vorrei che il discorso che abbiamo sentito interessante e utile a me come militante del partito oltre che come elettore e cittadino di questa diventasse poi un discorso ipocrite perché devo fare i conti non con me o con i miei compagni qua devo fare i conti con quelli che si rivolgono a me perché votano per il nostro partito e cavolo se non sono convinto io di una cosa è difficile che riesca a convincere qualcuno a comprare la mia merce io ho trovato seppur interessante e ripeto come permessa l'antipolitica lungi da noi da me da quelli che sono qui seduti e fanno militanti di partito ma non è questo il problema noi dobbiamo porci come dirigenti di partito dal più piccolo al più grande la questione relativa al nostro elettorato o all'allargamento del nostro elettorato ai fini di andare a governare perché se non è questo l'obiettivo facciamo Manfrina cioè hai rubato più tu ho rubato più io prendi più il stipendio prendi più io prendi più il consigliere legionale o il deputato cioè e Manfrina diventa un discorso ipocrite dobbiamo fare un ragionamento serio e la politica ha un costo il finanziamento pubblico dei partiti oggi non c'è più per legge e per referendum c'è il rimborso elettorale dei partiti questo rimborso elettorale è partito da mille lire ed è finito da 5 euro questa roba qui in periodi di vacche magre i nostri militanti che sono operai si incazzano scusate il termine non gliene frega niente che tu guadagni poco 1.400 euro e l'altro ne guadagna 5.000 dice questa roba qui non va bene se è rimborso elettorale è rimborso elettorale se è altro è altro poi la politica si può fare migliore peggiore con tanti militanti con tutti i universitari vabbè basta operai possiamo fare di tutto ma dobbiamo essere chiari rispetto alla questione dei soldi perché poi a finire non cadiamo sulle idee politiche cadiamo poi su queste stupidaggini dei soldi e ripeto l'elettorato per noi è un punto fondamentale se no facciamo ci parliamo tra noi e prendiamo i 4 voti nostri grazie per lui 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 adesso faccio una tona la sintesi non ho la capacità di parlare io perché io vorrei farlo voi io ti dico quello che penso che mi interessa la cosa allora il primo punto è quello che il compagno appena detto continuiamo a parlare di finanziamento dei partiti ricordiamoci sempre che dobbiamo parlare di rimborso elettorale allora eh professore però le cose sono così c'è stato un referendum che ha abolito il finanziamento c'è stato un provvedimento legislativo che ha introdotto invece un rimborso elettorale è così almeno finché io però ascolta ascolta io lo ho ascoltato prima no no lo sappiamo seguiamo perlomeno finché dobbiamo parlare sempre di quello che dovrebbe essere oggi come oggi dei urecondito continuiamo a parlare soltanto di rimborso elettorale poi l'entità del rimborso elettorale non è il discorso adesso vedete la disattenzione siamo dissamorati abbiamo seguito io i capelli bianchi abbiamo seguito per anni questo partito vogliamo che questo partito vada avanti vogliamo che la sinistra vada avanti però un discorso che si arrocchi supposizioni tali che di fronte a una sofferenza generale a una sofferenza sociale continui ad arroccarsi adesso lei ha appena finito di dire non mi sembra che siano tanti parlamentari non mi sembra che sia tanto quello che si che percepiscono siamo in media con la popolazione europea il professore ha detto che non sono poi in fondo tanti beh tra 630 e 315 di quelli nominati sono abbastanza tenendo presente che la costituente l'ava stabilito quando le competenze non erano neanche passate alle regioni c'erano altre competenze e questo è vero professore quindi probabilmente ma la gente lo percepisce comunque io non faccio il discorso della casta come un fatto che sono personale poco qualificato certo è lo specchio della società ci somiglia però la gente si è stufata di un gruppo che ha tanti privilegi quando gli altri non ne hanno più nessuno e ricordiamoci non facciamo l'errore di Maria Antonietta e diamo le brioche al popolo perché io mi aspetto veramente dei sommovimenti sociali pesanti andiamo sempre peggio quindi il discorso non è che noi ci possiamo arroccare su situazioni abbiamo fatto una figura con Giovannini dell'Istat che ha rimesso il mandato perché non è stato in grado di mettere a confronto le retribuzioni cosa che lei riesce a fare così facilmente con le altre nazioni Giovannini dell'Istat ha rimesso il mandato e beh no no sì sì l'ha rimesso per quello l'ha rimesso per quello non erano in grado questa allora benissimo lei ha notizie benissimo la commissione ha rimesso il mandato ma anche su quello che percepivano benissimo noi abbiamo un'altra percezione per carità benissimo comunque non è stato messo a confronto quello che viene percepito ma il problema non è soltanto quello che viene percepito è che questa classe politica molto probabilmente e lo dico nell'ambito del PD i casi di tedesco i casi ma non facciamo soltanto un nome un altro sono persone che ormai e anche il discorso di averli nominati in questo modo fanno sì che l'elettorato da questo punto di vista è stanco rendiamocene se io sono stanco di un partito non lo voto perché dall'essere stanco di un partito si deve fare lo scatto a dire aboliamo i partiti ma ma io non sto dicendo io sto dicendo scusi io sto dicendo che il problema è molto difficile è molto grave va preso sul serio però quello che non si capisce bene e noi qui voglio dire se veniamo qui a chiacchierare per cercare di capire assumere un punto di vista poi dopo i punti di vista si articoleranno ma mi vuole spiegare perché dalla premessa quel partito ha fatto male la conseguenza è aboliamo i partiti non voterò più quel partito faccio una se c'è un no ma il discorso pubblico è questo il discorso no lei mi dice dobbiamo stare attenti a cosa stanno cosa pensa il pubblico cosa pensano gli elettori giusto il nostro elettorato il nostro elettorato come dicevamo prima l'elettorato la struttura militante del partito fa una lotta politica contro le persone che si sono comportate male cioè non capisco perché tendiamo sempre a fare uno scatto dal piano del comportamento al piano delle regole ci sono i comportamenti quel che contano sono i comportamenti c'è uno che fa male gli faccio una lotta politica contro c'è un partito che va male non lo voto più lo contesto ma perché noi abbiamo questa angoscia di dire dobbiamo riscrivere le regole se i partiti rubano aboliamo i partiti no li critico li mando in galera non ci piacciono le regole la diminuzione del numero dei parlamentari anche il nostro partito l'aveva accettato e non è stato fatto la diminuzione è tutto il nostro è certo le regole non ci piacciono non ci piacciono neanche la novità dei colleghi nominali per prendere il risultato delle preferenze la modifica non ci piacciono noi non capiamo niente se ti metti a discutere tutto ma io risposto col microfono posso aggiungere qualche per rispetto di chi ha fatto le domande no sulla questione del finanziamento io contesto il fatto che la politica a partire dal partito democratico si sia arroccato nella difesa dell'esistente o in interventi minimali rispetto alle criticità che sono emerse da quanto è successo vi dico solo un numero nel 2010 i partiti sono andati 280 milioni di euro nel 2012 ne sono andati 91 è una riduzione del 70% che non ha uguali rispetto agli altri paesi europei questi 91 milioni sono un euro e mezzo per abitante i numeri che sono stati ricordati dicono 5 euro e 6 in Germania 2 e 8 in Spagna 2 e 3 in Francia abbiamo cambiato anche il modo in cui questi soldi vengono dati abbiamo introdotto delle regole di trasparenza ma sulla base di un ragionamento politico che è stato fatto innanzitutto dal partito democratico questa legge è figlia nostra è figlia dell'iniziativa della spinta del partito democratico che per difendere un principio sacrosanto cioè quello che i partiti hanno una funzione riconosciuta dalla Costituzione e proprio perché hanno una funzione pubblica riconosciuta dalla Costituzione ci deve essere un finanziamento pubblico che garantisca parità di condizioni che difenda l'uguaglianza politica dei cittadini nei momenti in cui vanno a votare ci deve essere appunto una forma di finanziamento pubblico questo principio però l'abbiamo difeso cambiando radicalmente il sistema esistente questa non è una riformicchia ha cambiato radicalmente le cose ha ridotto il 70% di distanziamento ha introdotto la certificazione ha introdotto la trasparenza delle donazioni un ulteriore organismo di controllo noi oggi abbiamo la normativa più severa d'Europa poi mi potete dire non è abbastanza bisogna abolire il finanziamento pubblico io non sono d'accordo io il punto di domanda non lo voglio non lo condivido lo Stato deve finanziare la politica come accade in tutte le democrazie europee tranne che in Gran Bretagna che è un paese che però sta discutendo di introdurre e potenziare il finanziamento pubblico se voi andate a prendere oggi lo danno soltanto all'opposizione la commissione indipendente che governa i bilanci dei partiti in Gran Bretagna nell'ultimo rapporto ha proposto di dare tre sterline a voto per le elezioni del Parlamento una sterline e mezzo per le elezioni europee e le elezioni regioni cioè ha proposto di introdurre quello che noi avevamo e altri paesi europei hanno già da tanto tempo perché secondo quella commissione indipendente l'introduzione di un finanziamento pubblico controllato regolato trasparente limita il potere dei grandi donatori se non abbiamo ben presente il rischio che corre un paese che butta via il bambino con l'acqua sporca noi veramente rischiamo di fare scelte che sull'onda della legittima e sacrosanta indignazione per quello che è successo portano questo paese però in un modello diverso di democrazia guardate che nel momento in cui si discute del modo in cui si finanziano i partiti si discute il modello di democrazia che un paese si dà io credo che noi dobbiamo guardare all'Europa nel momento in cui discutiamo e ragioniamo e prendiamo scelte che influenzano il nostro modello di democrazia cancellare il finanziamento pubblico ci porta in America e però dobbiamo sapere che cos'è l'America e che cos'è la politica americana e a me non piace e lo dico con con la massima trasparenza possibile io sono per un modello di democrazia europeo se vogliamo questo modello i partiti si devono finanziare non solo con l'autofinanziamento ma con soldi pubblici che garantiscono parità di condizioni io in Italia con tutto quello che è successo mi devo porre il problema non della cancellazione ma della riforma sono un partito riformista lavoro per cambiare profondamente le cose la legge che è stata approvata cambia profondamente le cose ed è un primo pezzo poi è chiaro che non basta e vengo al tema del Parlamento e dei parlamentari perché bisogna intervenire ecco io spero probabilmente non mi sono fatto capire fino in fondo colpa mia nella risposta che ho dato in precedenza io sono anche per quanto riguarda il Parlamento non per difendere l'esistente sono per fare operazioni serie che permettono di migliorare il funzionamento delle istituzioni sul numero dei parlamentari dobbiamo anche lì guardare a quanto accade nei paesi europei e dobbiamo sapere che però la situazione è variegata noi abbiamo 945 parlamentari italiani ne abbiamo di più in Inghilterra un numero uguale in Francia un numero inferiore in Germania e quindi troviamo il confronto si può fare non bisogna essere dei licenziati della politica troviamo il giusto equilibrio tra la funzionalità e il prestigio delle nostre assemblee elettive però anche con la rappresentatività di queste assemblee elettive perché un'eccessiva compressione degli organismi elettivi poi limita la capacità degli eletti di rappresentare i cittadini i territori e quant'altro anche qui guardiamo all'Europa e troviamo un giusto punto di equilibrio aggiungo un elemento noi possiamo anche ridurre ed è giusto ridurre in una qualche misura il numero dei parlamentari a questa operazione però dobbiamo affiancare il superamento del bicameralismo perfetto perché finché abbiamo la Camera e il Senato che fanno esattamente le stesse cose le leggi che fanno la spola da una Camera all'altra con tempi infiniti che poi alla fine si riducono in decreti legge voto di fiducia e in realtà l'effetto opposto cioè la compressione dei tempi di discussione noi non miglioriamo la nostra democrazia se non interveniamo anche sulla differenziazione dei compiti di Camera e Senato quindi meno parlamentari ma differenziando anche i compiti tra Camera e Senato sulla questione delle indennità e degli emolumenti non è vero che è stata quella la causa del blocco della Commissione Giovannini se voi andate su internet trovate il rapporto presentato dalla Commissione Giovannini che dice quanto prendono i parlamentari in Spagna in Francia in Gran Bretagna i parlamentari europei nelle altre democrazie comparabili alla nostra nel resto basta andare sui siti internet dei parlamenti dei paesi europei e questi numeri si trovano perché tutti fanno ormai una scelta giusta di trasparenza e elencano fino all'ultimo euro quanti parlamentari prendono di indennità di rimborso vitalizio trattamenti equivalenti e quant'altro quindi lì la Commissione Giovannini il lavoro l'ha fatto la Commissione Giovannini si è fermata sui manager pubblici sui presidenti dell'autorities salvo poi scoprire successivamente come è accaduto che in Italia il capo della polizia prende 600 mila euro all'anno il doppio del capo dell'FBI eccetera eccetera perché dobbiamo sapere che il tema probabilmente è un pochettino più vasto ci sono ancora dei privilegi da ridurre tra gli eletti bisogna fare un'operazione di trasparenza un'operazione di razionalizzazione guardando a quanto accade in Europa però guardate che c'è anche un enorme sottobosco di privilegi in tutto un mondo legato alla pubblica amministrazione che è lontano dai riflettori dei media dall'attenzione dell'opinione pubblica e in questi anni ha accumulato privilegi che non sono più accettabili anche in questo caso bisogna fare operazioni in modo serio rifiutando le logiche demagogiche rifiutando però anche la difesa dell'esistente io vorrei essere assolutamente chiaro da questo punto di vista il partito democratico nel momento in cui difende il principio del finanziamento pubblico dalla politica difende il principio del ruolo dei partiti nella nostra democrazia non si arrocca nella difesa di quello che c'è ma è un partito che ha lavorato lavora e lavorerà per le riforme per cambiare le cose sapendo che le riforme non le facciamo noi da soli noi per esempio sulla legge elettorale abbiamo le nostre idee al doppio turno di collegio e quant'altro però se vogliamo cambiare la legge elettorale dobbiamo trovare un accordo con le altre forze politiche e a quel punto si tratta di valutare la qualità del compromesso raggiungibile con le altre forze politiche presenti in Parlamento teniamo quindi anche conto di quelle che sono i dati di fatto di un Parlamento che comunque rimane quello eletto nel 2008 in cui centrodestra ancora la maggioranza al Senato ed è una forza di maggioranza relativa anche alla Camera dei Deputati questo è un po' il quadro di quello che stiamo facendo la condizione è molto difficile ne siamo tutti consapevoli perché un conto è difendere i principi di cui abbiamo parlato nelle aule universitarie è un conto invece rapportarsi con cittadini che giustamente si sono inferociti quando hanno visto che i soldi pubblici alcuni li hanno utilizzati per pagare gli spaghetti al caviale o dare la paghetta al figlio del capo ne siamo consapevoli perché tutti noi parliamo con la gente perché siamo un partito vero un partito vero ma un partito riformista è un partito però che difende i principi cambiando le cose facendo le riforme e lavorando per migliorare le nostre istituzioni e in ultima istanza migliorare la nostra democrazia ancora una domanda grazie ma vorrei appunto sulla onda di quello che si è sentito prima mi è sembrato ogni tanto c'è questo rischio qualche anno e ne ho assistito anch'io di dibattiti può accade che delle volte si viene per fare la lezione in Cina ora se si vuole le persone pronte ad applaudire non è più tempo non è più tempo non solo per mutate condizioni perché è intervenuta nel frattempo un metodo più democratico ma soprattutto perché se si vuole veramente partecipazione non si può stare lì a dire ma sì però i deputati sì i parlamentari poi non sono così tanti ma sì le paghe però per il mio modo di esprimere è giusto gli emolumenti sì però un momento ma a dicembre dell'anno scorso cosa ci hanno messo 15 giorni per decidere operare velocemente su una riforma poi mi si dirà che era per per l'urgenza perché eravamo pronti al deficit e tutto la riforma delle pensioni in modo così vergognosamente accolto silenziosamente perché perché non si poteva fare altrimenti e quindi è doppiamente grave quando poi si cerca di scantonare perché poco fa da più di un intervento ho avuto la sensazione proprio quella che ci doveste voi guidare a noi la linea no non è così lo è stato negli anni 50 60 70 non è più così e quindi cose del genere non vanno bene uno dei peccati diciamo originali ad esempio è entrata in politica una forza nuova che possedeva televisioni cosa ha fatto il partito comunista per opporsi e poi magari perdere ma dire io ho fatto di tutto è un'anomalia nel panorama politico e oggi mi si viene a dire poco fa è stato citato ma guardate che la pubblicità costa un passaggio televisivo tutto per qualcun altro qualcuno basso questo problema non c'è però è stato fatto nutrire e gli si è concesso di entrare in politica con tre televisioni e noi che cosa abbiamo fatto abbiamo aspettato 50 anni sperando di arrivare poi è successo non per merito nostro i demeriti altrui sono caduti e sembrava è il momento di arrivare a governare noi finalmente dopo tanti sacrifici il partito che rappresenta la classe lavoratrice i più deboli e anche gli altri non solo noi e beh invece chi è arrivato per prima i fascisti i fascisti sono arrivati a governare per prima nel 94 e noi ancora che aspettiamo dopodiché non solo sono arrivati loro ma è arrivato in quel contesto quel modo di operare a tutti nuovo sconosciuto è stato detto qualche volta che sarebbe stata un'anomalia ma forse non c'è stata abbastanza convinzione nel lottare contro perché forse mi viene in mente di dire come ha già detto qualcun altro siamo un paese che non abbiamo mai fatto una rivoluzione sappiamo fare le sommosse sappiamo incendiare i mobili presso il sindaco di quel paese finito tutto il giorno dopo si ricomincia da capo ma una rivoluzione non sappiamo che cos'è e siamo stati citati anche come un paese di vili cosa che io penserei di no però se viene poi coltivato come viltà come viltà a livello di altre nazioni l'ha detto Augas l'altro giorno in una trasmissione ma non è solo e quindi forse è stato anche un po' coltivato perché io non credo che siamo vili ma forse è stato anche coltivato comunque ricordiamoci questo le pensioni sono state colpite prima svalutate poi aumentate il numero di anni di lavoro poi aumentate l'anno anagrafico per conseguire la pensione e adesso poi uno sente dire certe cose e quindi è chiaro che non si può essere l'applauso facile perché non è non è il momento di applausi facili è il momento di trasparenza vera grazie bene io ringrazierei tutti ringrazierei soprattutto giustamente vuoi replicare semplicemente dicendo che io non cerco gli applausi facili e non probabilmente anzi probabilmente sono della tendenza esageratamente opposta se avessi voluto cercare l'applauso facile sarei venuto qua dicendo dimezziamo questo azzeriamo quest'altro spaziamo via quest'altro ancora però io credo che la funzione di un dirigente politico nel momento in cui interloquisce con la propria gente sia confrontarsi un confronto vero a partire da alcuni dati di fatto poi me li potete e spiegando il lavoro che si sta facendo poi giustamente me lo potete contestare mi potete criticare ci mancherebbe altro e io rispondo io onestamente credo che noi di demagoghi che arrivano salgono sul palchetto e dicono alla gente quello che la gente vuole sentirsi dire salvo non fare assolutamente niente ne abbiamo avuto già uno per 17 anni ha rovinato questo paese credo che noi un passo in avanti lo facciamo anche se in questo paese si sceglie una politica che magari liscia meno il pelo dell'opinione pubblica tenta di dire la verità si porta a casa le critiche che deve portarsi a casa e poi le cose le fa troppo spesso in questo paese abbiamo avuto politici strappa applausi che poi una volta eletti nelle istituzioni hanno fatto esattamente il contrario contribuendo ad allargare questo fossato che ormai divide i cittadini dalla politica e che è un problema gravissimo per il nostro paese che mette a rischio il futuro della democrazia siccome credo che tutti noi alla nostra democrazia ci teniamo e dobbiamo lavorare sentiamo la responsabilità di lavorare per rafforzarla per rinnovarla e per rinsaldarla credo che anche quando ragioniamo di queste cose facciamo un lavoro utile se tentiamo di ragionare sui dati di fatto anche quando i dati di fatto sono impopolari e non vanno esattamente nella direzione di quello che tanta gente vorrebbe sentirsi dire o la politica fa questo cambio di passo e questo salto di maturità oppure se questo paese sceglie nuovamente una opzione politica populista credo che il nostro futuro sia poco roseo la responsabilità del partito democratico non è quella di lisciare il pelo all'opinione pubblica è anzi quella di contrastare i populisti offrendo a questo paese non la conservazione dell'esistente ma un cambiamento vero che diventi fatti concreti nel momento in cui si va a operare nelle istituzioni io direi che possiamo chiudere ringrazio tutti ringrazio soprattutto le persone che sono intervenute perché generalmente in queste occasioni l'intervento finale del pubblico è sempre la parte più dispersiva questa volta invece a me sembra che sia stata la meno dispersiva della serata perché ha centrato il tema che è il tema principale che io credo io faccio il giornalista sono un umile cronista però ecco il partito democratico che tra tante cose è anche una cosa grande con tutto quello che possa voler dire essere grandi più che con l'antipolitica ha un problema con il suo elettorato io credo e mi auguro che il partito democratico riesca a risolverlo quanto prima questa è la mia opinione ringrazio tutti sono certa che anche i giornali e le televisioni potrebbero aiutarci a migliorare il rapporto con il nostro elettorato dicendo più spesso le cose come stanno buona serata e grazie a tutti